Nella città di Odessa, tra il fumo dell'esplosione e le macerie di un palazzo colpito dai droni russi, i soccorritori cercano di salvare le persone intrappolate. Nella località ucraina che si affaccia sul Mar Nero, le forze del Cremlino nella notte hanno preso di mira un edificio con 18 appartamenti, uccidendo almeno tre persone. Lanciato un attacco anche contro la regione di Kherson, morto un uomo di 54 anni. Dopo i raid russi che hanno interessato anche Kharkiv, il presidente Zelensky ha esortato l'Occidente a fornire più sistemi di difesa aerea per salvare le viti umane e proteggere i civili. Sul versante opposto un drone ucraino si è schiantato contro un condominio di San Pietroburgo. Diversi feriti, alcune case sono state danneggiate e i residenti degli appartamenti colpiti sono stati evacuati. Un attacco di droni russi nella notte si è abbattuto su Odessa e secondo quanto riporta il Kiev Independent sarebbero rimaste uccise due persone ritrovate senza vita sotto le macerie. L'esplosione su un grattacielo residenziale, sette i feriti, altre sette sarebbero disperse sotto i detriti dell'edificio. Attaccata con bombe anche l'oblast di Kharkiv dove una persona è rimasta uccisa. E mentre nella regione meridionale dell'Ucraina proseguono i lavori di soccorso, in tutta la Russia ieri Alexei Navalny è stato omaggiato durante la celebrazione del suo funerale. Morto per cause ancora sospette lo scorso 16 febbraio in una colonia penale siberiana, ieri l'ultimo saluto all'oppositore numero uno di Putin in una chiesa nel quartiere dove Navalny viveva a sud-est di Mosca. E mentre la sua bara veniva calata nel cimitero tra le note di canzoni commoventi, migliaia delle persone che hanno voluto rendere omaggio all'uomo che si era schierato contro il Cremlino. Non solo a Mosca, ma anche in altre città del paese, molte le persone che hanno portato fiori davanti alle foto. Il portavoce del Cremlino aveva avvertito che sarebbero state soppresse qualsiasi tipo di manifestazioni non autorizzate, considerate una violazione della legge. Il raduno ha assunto infatti in certi momenti i contorni di una protesta politica con cartelli e slogan contro Putin. La Russia sarà libera e una Russia senza Putin. Oltre 100 le persone fermate dalla polizia. Era assente la celebrazione. Iulia Navalny, la moglie di Navalny, che ricorda il marito con un video commovente su X, commentando «Cercherò di renderti orgogliosa di me». Da tutto il mondo decine di persone hanno voluto maggiore le XVI Navalny, da Londra a Barcellona fino a Parigi e Belgrado. Voci, minacce, indiscrezioni. La possibilità di vedere soldati occidentali in Ucraina arriva al centro del dibattito internazionale. Il primo a parlarne pubblicamente è stato il presidente francese, Macron. «Non possiamo escludere che in futuro accada», ha detto la scorsa settimana. Qualche giorno prima il quotidiano New York Times aveva pubblicato un'inchiesta su 12 basi della CIA attive in territorio ucraino da 10 anni per addestrare le squadre speciali. Dopodiché è stato il cancelliere tedesco Scholz a portare nel discorso, in maniera più o meno volontaria, un altro elemento. «Non forniremo missili a lunga gittata a Kiev perché, se usati male, potrebbero colpire obiettivi a Mosca», ha detto, spiegando poi. «Altri paesi si assicurano di sapere dove finiscono i loro missili», parole che indicherebbero la presenza di militari francesi e britannici sul campo. «Se l'Ucraina perderà, credo davvero che la NATO entrerà in guerra con la Russia», il richiamo del segretario alla difesa americano, Austin. «Il risultato», avvertono da tempo da Mosca, «sarebbe un conflitto inevitabile fra potenze nucleari». «Le forze strategiche russe sono in stato di massima allerta», ha confermato il capo del Cremlino, Putin. «Ieri hanno testato un missile balistico che ha colpito il bersaglio previsto in Kamchatka». «Sul terreno l'avanzata russa continua. Putin la utilizza, politicamente in vista delle presidenziali. A Mosca, ancora stamane, migliaia di persone hanno raggiunto il cimitero nel distretto di Marina per rendere omaggio all'oppositore Alexei Navalny». «Il piccolo cimitero di Borisov, uno dei più antichi di Mosca, continua il pellegrinaggio di persone che depongono fiori sulla tomba di Alexei Navalny, dove è tornata anche la madre». «Il giorno dopo i funerali, nella capitale russa, il popolo anti-Zar non si ferma. Nulla ha potuto placare, nonostante la cerimonia blindata, le migliaia di persone che si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'oppositore di Vladimir Putin. «La sfida al capo del Cremlino, del resto, era evidente. I migliaia hanno provocato il regime che aveva vietato ogni forma di manifestazione durante le esequie. Il raduno ha assunto i contorni di una protesta politica. Giovani e anziani, generazioni diverse che sognano una Russia senza Putin e che hanno iniziato a scandire cori in omaggio al dissidente e contro lo Zar. Un caso isolato, forse. L'unica volta che il divieto di canti sul suolo pubblico imposto nel 2011 fu infranto è stato nel gennaio del 2021, subito dopo l'ultimo e definitivo arresto dell'oppositore. Ma di certo questo funerale è stato al tempo stesso una eccezione e un'occasione. Nelle stesse ore con Mosca c'era un mondo intero collegato. 128 le persone in 19 diverse città della Russia che sono state fermate. La cerimonia funebre comunque non è stata turbata da incidenti con le forze dell'ordine che si sono limitate a dirigere l'afflusso dei partecipanti e si sono mostrate collaborative con i moltissimi giornalisti presenti. Intanto infuriano i combattimenti in Ucraina. Attacchi notturni con i droni a Kharkiv, Odessa e in città della regione di Sumi. L'appello di Zelensky, ci servono più sistemi di difesa.